Nel frattempo che sta tostando la pizza, quindi c'è un video con la pizza che combini, la pizzetta, io vi faccio questo video qua perché dovete capire che in Giappone quando vi sposate, cosa che ho fatto io, c'è un'ora di inizio e un'ora di fine non è come in Italia che ti siede e non sai mai quando ti alzi, cioè stai là, mangi, canti, balli, partono le tarandelle poi c'è quella di arrivare al primo e quella ha la carne, il mondo, cioè entri un orario tipo le 6 forse di sera, te ne esci a mezzanotte, a mezzanotte stanno a fare ancora la torta in Giappone, bello sognate una cos'è, io l'ho scoperto un po', non è che dico che non mi è dato fastidio perché come ti ho detto in un altro video dei soldi che si danno al matrimonio, non è economico sposarsi ma i Giappone si sono fissati e devono fare tutto in maniera molto organizzata quindi cosa vogliono fare loro, cosa pensano di fare loro? ti dicono, ti pianificano tutto il matrimonio, c'è una persona che è proprio con il microfono come se il vocalista del DJ, che ha tutta la scaletta di quando voi, io sono andato con mia moglie ci siamo seduti, poi ci sta quello che fa il discorso, l'introduzione, poi ci stanno l'uscita del primo piatto, l'antipasto, quello che ti prende il menu di solito loro fanno fusion francese giapponese o solo tradizione giapponese, dipende uno cosa vuole e durante tutto quanto il servizio ci stanno dei giochi che si fanno, ci sono delle interviste con microfono gli invitati, ogni azienda ha un suo modo di comportarsi però lo ti dicono, guarda, noi in un'ora e mezza sei fuori cioè il matrimonio non serve per sé, quando si mangia un'ora e mezza ma forse tu sei fortunato se te la riesci a tirare due se fai qualcosa o vuoi provare a fare qualcosa che va al di fuori della scaletta che loro hanno li mandi a panico vanno a panico se succede qualcosa che loro non hanno previsto li vedi che vanno a panico perché loro hanno una scaletta che devono seguire ecco perché i matrimoni giapponesi una volta che sono finiti si va a fare una seconda festa più spartana in un altro posto tipo di olio che niente ti sfondi e bevi e mangi come l'impossibile perché quando tu fai il matrimonio se pensi che sei che hai la fame ancora ce l'hai perché è tutta una cosa un po' elegante ci sono queste cose qua almeno un po' sofisticato ogni cosa un po' particolare non è ricercata allora ci sta pure tra i giapponesi c'è la gara chi spende più soldi in determinati tipi di menu perché deve ostentare che il matrimonio ha fatto un po' di più poi dietro comunque c'è sempre il rapporto di quanti invitati in base a quante bus ci stanno in maniera che comunque devi controbilanciarlo io e mia moglie abbiamo invitato solo persone solo persone strette solo quelle abbiamo invitato quindi non c'era un grande numero magari eravamo una quarantina di persone però c'è anche matrimoni 200-300 persone dipende uno con quanto largo lo può fare ma tutto dipende anche un costo perché non è che poi le busta può veramente coprire tutto quanto perché un menù a persona vanno su intorno ai 100 euro quindi fai il calcolo qua o là poi devi fare le ventole bomboniere devi fare l'extra regalo che solo devono scegliere dal catalogo comunque tu i soldi loro ti danno la metà e tu li spendi per loro per stesso gli invitati più della metà quindi quello che rimane poi è relativo volevo dire questa cosa qua che ho detto io ho detto ma com'è noi entriamo si fa la cerimonia la mattina alle 9-10 un'ora e mezza finisce la cerimonia ti prepari ti cambia vestito poi comincia si mangia a pranzare non fanno di sera fanno di giorno poi capace qualcuno riesce a farlo di sera questo non lo so dire al 100% poi ti dicono 8 ore 8 ore 8 ore a quest'ora 10 minuti 10 minuti un'ora un'ora e mezza poi ti chiamano che ti devi alzare ti devi alzare con tua moglie devi rifare percorsi in mezzo ai tavoli salutare tutti quanti e te ne vai e quello è il segnale che è finito il matrimonio in vita se ne devono andare immaginate se un giappone si vede il matrimonio in Italia mi rimane scioccato beh raga fatemi sapere cosa ne è venuto di questa altra cosa assurda io su un matrimonio ne ho tante ne ho tante cose particolari tante tante un bacio un abbraccio io vado a fare il video adesso della pizza vediamo l'ho tostata vediamo come sa sta pizza